Ciao a tutti, io sono il DilanDogofilo. Con questo video diamo il via all'analisi completa del Maxi DilanDog Oldboy, quello di ottobre 2015. In questo video andremo a recensire la storia a cena con il morto, poi successivamente nei prossimi video andremo a scoprire anche le due storie rimanenti che compongono questo corposo libro da ben 292 pagine. Prima di iniziare però diamo uno sguardo rapido alla copertina strepitosa di Gigi Kavenago, davvero fantastica come al solito. Mi piace tantissimo questo suo tratto pennellato e quello che stupisce in maniera particolarmente positiva in questa occasione è la luce. I giochi di luce che sono stati recreati davvero molto molto bene. Guardate appunto la luce emanata da questa lampada, come si distribuisce bene all'interno di questo disegno, creando un'atmosfera davvero unica. Sembra proprio di essere la notte del 31 ottobre dentro lo studio di Dilan con quest'atmosfera molto claustrofobica, molto diciamo serraiata, molto cupa, molto stretta. E guardate le zucche in testa a Graucia Dilan sono davvero un tocco di classe. Non ci aveva mai pensato nessuno, un'idea talmente banale, è Halloween, mettiamo io una zucca in testa a Graucia Dilan, non ci aveva mai pensato nessuno, l'ha fatto questa volta Gigi Kavenago con un ottimo risultato. Poi anche qui dietro la libreria, il galeone, la scrivania, tutto perfettamente proporzionato. Gigi Kavenago che rispetto ad altri autori eventualmente conosceva meno il mondo di Dilan Dog, riesce a riprodurre il mondo di Dilan Dog meglio di altri che su Dilan Dog ci lavorano da una vita. Bella, poi sempre bella la nuova grafica assegnata a questo Old Boy, insomma piace davvero tanto. Piace un pochino meno invece la storia, andiamo a vedere il perché, andiamo a prendere la pagina che si intitola appunto A cena con il morto, scritta e sceneggiata da Di Gregorio e disegnata da Ugolino Cossu. Una storia che inizialmente ingrana molto bene, ha un ritmo incalzante e crea abbastanza, un senso di hype abbastanza marcato. Quindi inizialmente buone impressioni da parte di questo racconto, però leggendo di pagina in pagina tutta questa atmosfera da vero e proprio indagatore dell'incubo va un pochino a sfumarsi e a snaturare la trama di base stessa, che vede una folle catena di omicidi che dovranno essere risolti. Quindi in questa avventura a Londra si scatenerà il classico raptus di follia e Dilan dovrà indagare insieme a Bloch su tutto ciò. Quindi il lettore inizialmente pensa ad una storia proprio da indagatore dell'incubo, quindi il lettore pensa che ci sia una soluzione molto stramba per risolvere il caso, come di consueto una soluzione molto paranormale, invece il tutto si risolve con un finale un pochino troppo stile poliziesco anni 70. Il finale di questa avventura sembra quasi un telefilm poliziesco degli anni 70 alla 007, alla James Bond, insomma non mi è piaciuto particolarmente. Una storia che è partita bene ma è finita un po' male. Però abbiamo comunque un'ottima caratterizzazione dei personaggi, questo è un elemento davvero molto importante nelle storie di Dilan Dog, personaggi che appunto riescono a mostrare la loro essenza davvero molto bene, tutto questo grazie anche al tratto perfetto di Ugolino Cossu che si dimostra davvero all'altezza di prendere le redini di un fumetto d'autore, nel senso si dimostra davvero un grande artista capace di fornire la giusta importanza ai suoi disegni, fornire dei disegni belli che si addicono perfettamente al fumetto d'autore. Infatti Ugolino Cossu che attraverso la mimica facciale dei personaggi riesce a comunicare tante tante emozioni differenti al lettore. Non c'è mai un'espressione uguale ad un'altra e questa è una nota più che positiva. Quindi ogni personaggio avrà una mimica facciale davvero molto molto articolata e molto ampia. Dilan non rispecchia perfettamente il personaggio di Rupert Everett, però comunque nella sua fisionomia segnata da Ugolino Cossu comunque risulta essere abbastanza convincente, forse questi capelli un po' a mo' di tentacoli di melusa non mi convincono particolarmente però per il resto insomma è un'espressione più che valida, anche gli occhi sono un pochino stile orientale però tutto sommato c'è chi disegna peggio il volto di Dilan. Quello che stupisce di questi disegni è proprio la precisione del tratto qui dalla telecamera, magari non riuscite ad apprezzarlo. Vi consiglio di vedere queste tavole dal vivo, proprio tratti sottilissimi e precisissimi, disegni molto omogenei Bloch che rispecchia proprio spiccicato la sua controparte reale, l'attore da cui Bloch ha preso le sembianze di cui adesso mi sfugge il nome, mi sembra che si chiamava Marlo o qualcosa. Per il resto di che cosa parla questa avventura nel dettaglio? Ve l'ho detto, una scena, una catena di omicidi davvero molto strambi, inizialmente si pensa a qualcosa di paranormale, la gente che impazzisce tutta ad un tratto, poi c'è la fidanzata di Dilan che è molto enigmatica, molto strana, che sarà lei praticamente la mappa, la bussola che articolerà l'intera avventura, che farà navigare il lettore all'interno dell'avventura. Quindi questa ragazza ci fa un po' da bussola e noi ci orientiamo tramite lei e attraverso lei si determinano tanti eventi differenti che poi si riuniscono per formare la storia finale. Quindi un personaggio che risulta essere un pochino antipatico perché si propone davvero come una ragazza molto strana, molto difficile, che insegue solamente, che utilizza le persone per inseguire i suoi scopi, però allo stesso tempo è anche la chiave principale di tutto. Quindi anche se è antipatica, anche se verrebbe da mandarla a quel paese come fa Dilan spesso e volentieri in questa storia, comunque è un personaggio di fondamentale importanza per capire bene come si articola questa avventura. Alla fine dunque, cos'è che non mi ha convinto? Pensavo ad un finale paranormale, invece in cosa si risolve? Tutto questo raptus di follia è dato solamente da una multinazionale che ha sperimentato del cibo un pochino velenoso che ha degli effetti collaterali. Sapete, alcune multinazionali non si fanno scrupoli a costo di ammazzare determinate persone per avanzare nel progresso, non si fanno proprio scrupoli e questo è il caso di questa azienda che viene, ovviamente speriamo che sia tutto frutto di finzione, che viene narrata in questa avventura, quindi in pratica le persone che sono impazzite perché hanno mangiato un cibo avvelenato che insomma ha dato questa reazione di follia collettiva. E il finale appunto si presenta proprio come uno 007 perché Dilan viene prontamente salvato da un uomo che ha un ristorante dove serve cibo che inconsapevolmente serve questo cibo che era avvelenato e quindi vuole risolvere la situazione, vuole recuperare i clienti persi, insomma era un ex agente 007 e va a salvare la pelle a Dilan perché Dilan viene rapito da questi brutti cattivoni che devono farlo fuori perché ne sa fin troppo, insomma un finale che non mi ha convinto proprio per niente. Tutta una storia che aveva una... si proponeva inizialmente come una classica storia di Dilan Dog che poi va a sfociare in un finale davvero un po' troppo retro, un po' troppo vintage ecco si può dire. Anche forse il disegno di Ugolino Corso ricorda un po' alcuni volti di attori famosi degli anni 60 quindi insomma ci siamo capiti. Il finale più che altro è quello che non ha convinto. Il voto finale che vado ad assegnare a questa avventura allora originariamente era un 7 perché comunque era una storia abbastanza vincente però dopo tenuto conto di questo finale insomma fuori tema il voto scende a un 6 e mezzo. 6 e mezzo perché comunque la storia è sufficiente perché troviamo anche delle scene splatter ben recreate. Forse io mi sarei spinto un pochino oltre in queste scene splatter. mi spiego meglio ad esempio c'è questa donna vedete siamo in questa sauna che ammazza una in questo raptus di folia ammazza una ragazza prendendogli la testa e sbattendogliela contro il muro però io e dopo si ferma qui la scena. Io avrei invece mi sarei spinto oltre avrei ad esempio dopo questa ragazza qui che ha preso le batte in testa gliela avrei avrei messo la testa anche dentro questi carbone ardenti cosa che non accade in questa avventura. Quindi scene splatter però manca un po' di quel tocco in più. Ad esempio anche qui quando ammazza quest'altra ragazza sempre nella sauna prende questa pietra ardente e gliela diciamo brucia in testa. Io mi sarei spinto oltre prendendo magari questa pietra e infilandogliela in bocca ma io sono troppo cinico e magari di Gregorio non è cinico quanto me e magari non aveva voglia di rappresentare scene splatter così spinte mentre in ben riuscita una delle scene splatter iniziali vi lascio a voi il gusto della scoperta. Quindi comunque il voto rimane sufficiente. Mi sarei aspettato un finale migliore e diciamo alcune e che gli eventi si fossero sviluppati in maniera migliore. Chiudo con l'ultima nota dialoghi un pochino scarsi dialoghi che sono davvero molto ristretti. Secondo me questa è una storia che si poteva condensare in 60 pagine mentre obbligatoriamente di Gregorio doveva scaturire 98 pagine quindi questi dialoghi si sono ristretti e si sono diluiti nel corso dell'avventura. Dei dialoghi che di vignetta in vignetta sono molto brevi. Ogni balloon è composto da 4 o 5 parole. Mi sarebbe piaciuto trovare dei dialoghi più ampi, più ricchi. invece sono molto molto ristretti. Vedete 3 o 4 parole alla volta e questa appunto questa storia si denota che forse inizialmente doveva essere di 60 pagine e dopo siccome gli scrittori sono obbligati a farne 98 queste 60 pagine sono dovute allargare quindi i dialoghi di conseguenza si sono ristretti e si sono sparsi di più per il corso della storia. Chiudiamo qui. Quindi voto finale 6 e mezzo. Se questa recensione in qualche modo ti è stata utile condividila su Facebook anche se ti è piaciuta. Iscriviti al canale YouTube del DilanDorofalo per rimanere sempre aggiornato sul personaggio di DilanDor. Fammi sapere la tua qui sotto nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video completamente dedicato al mondo dell'indaggatore dell'incubo.